Musica Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. Iniziano oggi i saldi invernali di fine stagione. Secondo il Codacons quasi una famiglia su due approfitterà degli sconti ma con acquisti mirati. I dettagli nel servizio di Roberto Maggi. 30, 40 e 50% sono iniziati ufficialmente i saldi di fine stagione, occasioni a prezzo ribassato per risparmiare qualcosa sugli acquisti e se la gente risponde positivamente alla vendita promozionale occorre tenere gli occhi ben aperti. A tal proposito il Codacons ha diffuso un decalogo di cautele per non pentirsi dell'acquisto. Innanzitutto conservare sempre lo scontrino. Il cambio è consentito entro due mesi se la merce presenta vizi occulti. In tal caso laddove non sia possibile la sostituzione con un prodotto equipollente, il commerciante ha la facoltà di proporre l'alternativa del buono, stando attenti alla durata e alla validità dello stesso. In caso contrario il cliente può chiedere la restituzione dei soldi. A spiegarlo è l'avvocato Dario D'Urso del Codacons. La restituzione dei soldi da parte del venditore non è prevista dalla legge, la restituzione viene chiesta davanti a un giudice, quindi con tutti i costi e lungaggini accessorie legate alla giustizia. Diverso il caso di merce esente da vizi. In tal caso il commerciante può ben decidere che per la merce in saldo non si accettano cambi. Occhio poi all'entità dello sconto. Un 70% a inizio saldo deve destare qualche sospetto. Si deve trattare di rimanenze di magazzino, la merce in promozione deve essere realmente di fine stagione. Bisogna controllare benissimo il cartellino, controllare non solo la percentuale di sconto che potrebbe essere anche fittizia, irreale, controllare il prezzo di partenza, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Infine gli scaffali. Il negoziante ha il dovere di tenere la merce non in saldo ben distinta da quella in promozione. Del resto è la stessa regolamentazione della vendita che oggi fa discutere. È arrivato il momento per il legislatore di mettere mano alla legge vigente e dire sarebbe il caso di liberalizzare le vendite promozionali tutto l'anno e quindi rendere evidente, rendere legale quello che in realtà già nei fatti succede. Enormi lastre di ghiaccio lanciano i saldi del Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta. Una nuova attività di guerriglia marketing che ha stupito tutti e coinvolto migliaia di passanti. Oltre 50 lastre di ghiaccio hanno invaso le strade pugliesi e lucane. Non è ancora il grande freddo ma il lancio dei saldi invernali del Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta. L'operazione di guerriglia marketing si è svolta a Bari nel cuore delle vie del commercio, via Sparano. Enormi lastre di ghiaccio di varie dimensioni contenevano all'interno buoni shopping pronti per essere scongelati e liberati tra la curiosità dei passanti coinvolti. Si fa aiutare dal cane? Sì, un po' sì. A casa mia ho i polpi, li vedo a prendere, li metto qui e faccio i polpi ricci. È un ospicio di prendere il buono, non per la 5 euro, io ho rotto pure l'ombrello, però è un divertimento. Il claim virale che per giorni ha impazzato sui social è stato pronti a restare di ghiaccio. Come di certo non sono rimasti tanti curiosi che hanno recuperato uno dei 4.000 buoni spesa da utilizzare nel centro commerciale dal 5 gennaio al 14 febbraio. Inoltre nei pressi delle installazioni di ghiaccio sono state distribuite cartoline valide per l'estrazione finale di un buono shopping del valore di 500 euro che avverrà entro il 30 gennaio 2016 nella galleria del Grand Shopping Monfetta. Un modo diverso di fare promozione pubblicitaria che coinvolge le persone, sempre nell'ottica per cui fare shopping deve essere prima di tutto un divertimento. E per agevolare lo shopping festivo, domani, giorno dell'Epifania, l'Amtab ha disposto l'apertura straordinaria dei park and ride per permettere a chi vorrà raggiungere il centro cittadino di evitare code e disagi per il parcheggio. Sono tante le novità che riguardano la politica dell'abitare a Bari. Rientrano tutte nel piano dell'Agenzia della Casa, istituita dall'Aggiunta Comunale il 30 dicembre scorso. Questa mattina la conferenza stampa a Palazzo di Città per illustrare i dettagli. Sentiamo. Il Comune di Bari affronta l'emergenza abitativa e lo fa con un piano straordinario, l'Agenzia Sociale per la Casa. Cosa prevede? L'Agenzia per la Casa struttura, mette in rete tutta una serie di iniziative di carattere pubblico e di carattere privato. Si va dalla costruzione dei nuovi alloggi, sono 230 in fase di realizzazione che si completeranno nei prossimi due anni, 633 in tutto nei prossimi cinque anni. Ma ci sono anche interventi di natura privata, il cosiddetto housing sociale, con il cambio di destinazione d'uso, la realizzazione di immobili alloggi a prezzo calmirato, non più di 300 euro al mese. Ci sono tutta una serie di iniziative anche legate a contributi, come il contributo alloggiativo, il contributo per l'amorosità incolpevole, il contributo alla famiglia di origine che magari può ospitare alcuni familiari che hanno perso la casa. Un intervento, l'Agenzia per la Casa, che si inserisce in un piano nazionale che prende il nome di Pommetro e in un piano regionale per l'amorosità incolpevole. Abbiamo circa 10 milioni di euro a disposizione per i prossimi anni. Quante sono le famiglie che potranno beneficiare dei servizi offerti dall'Agenzia? Le famiglie sono numerose. Partiamo dal presupposto che all'interno delle graduatorie del Comune ci sono 1.932 aventi diritto, 633 nuclei familiari, però nei prossimi 5 anni vedranno una risposta positiva alla necessità di avere una casa. E passiamo alla cronaca. Pane tossico al carbone vegetale, sequestrati in Puglia, panini e focacce impastati con colorante non a norma. L'operazione della Guardia Forestale dello Stato. I dettagli nel servizio di Cristina Ferrini. Pane nero al carbone vegetale, prodotto utilizzando coloranti proibiti dalla legge. La scoperta degli uomini della Guardia Forestale che hanno sequestrato un ingente quantitativo di focacce, panini e bruschette in alcuni panifici pugliesi, anche a Bari. 12 panificatori denunciati producevano e vendevano prodotti alimentari al carbone vegetale trattati con un'aggiunta di additivi chimici per variarne la composizione. In pratica, alle ricette classiche del pane e della focaccia, veniva aggiunto insieme ai normali ingredienti, acqua, farina, sale, burro e latte, anche il colorante E153 carbone vegetale, una sostanza non autorizzata dalla legge. I prodotti sequestrati, la cui produzione aveva raggiunto il picco per l'epifania, sarebbero finiti sulle tavole dei pugliesi con possibili rischi per la salute. Sono state concluse da poco queste attività di polizia giudiziaria che vanno nella direzione di difendere il consumatore da frodi, perché di frodi stiamo parlando a leggi e normative italiane e comunitarie. Quali potrebbero essere le conseguenze sulla salute di questo colorante E153? Certo è che è vietata dalla norma e per questo è sufficiente per procedere al sequestro e consentire di indagare 12 persone così come è stato fatto. Circa 100.000 decorazioni luminose natalizie non in regola e prive del sigillo europeo C sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Bari durante i controlli in numerosi esercizi commerciali. Sequestrati anche 3.000 prodotti tra articoli di cartoleria, accessori di abbigliamento contraffatti, 5 cittadini cinesi denunciati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e frode in commercio. E in chiusura ci occupiamo dello sport. Un summit tra il presidente Gianluca Parparesta e il responsabile della tecnica Zanfir e il neotecnico Andrea Camplone sancirà oggi le strategie di mercato per la prossima campagna di rafforzamento del Bari. In cantiere per potenziare la squadra ci sarebbero almeno tre innesti. Dopo il grave incidente che ha messo fuori gioco il terzino del grosso, la priorità è l'ingaggio di un difensore di fascia, Barecca del Cagliari, mentre a centrocampo le attenzioni del club sono rivolte ad un elemento di qualità Dezzi del Napoli. In attacco Camplone sarebbe lieto di avere a disposizione un centravanti di suo gradimento come Falcinelli. La trattativa con il Sassuolo è però complessa. E questa era la nostra ultima notizia. Come vi consueto vi lasciamo al meteo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Amici tra i bimeto, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per martedì 5 gennaio. Cominciamo dall'Europa dove il tempo resta ancora particolarmente perturbato sui settori centro-orientali del continente con nevicate diffuse e in effetti anche le temperature rimangono molto basse sul centro-est Europa in molti casi sotto zero invece valori più miti sui settori occidentali e mediterranei. Ma ora passiamo all'Italia. Nel complesso sarà ancora una volta una giornata molto variabile e instabile in particolare al centro-nord invece schiarite anche ampie sono previste all'estremo sud. Come temperature e valori stazionari e tutto sommato ancora abbastanza miti nelle regioni centro-meridionali. Queste sono le minime all'alba ma anche le massime. Guardate potremmo toccare al centro-sud i 15 gradi invece valori contenuti al nord. Al sud minor probabilità di pioggia, in campagna però ombrella portata di mano dalle altre parti alternanza di nuvole e schiarite. Con questo è tutto ma vista la situazione rimanete davvero con noi scaricando anche l'app gratuita di Trevi Meteo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti